Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione con i suoi massimi valori è posizionata tra Francia e Inghilterra, ma nelle prossime ore tenderà ad allungarsi sull'Italia a partire da ovest. In questo modo le correnti più fredde e balcaniche verranno scalzate e al loro posto al sud inizieranno a soffiare venti più miti che garantiranno stabilità e temperature in risalita. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 7 aprile. Mattinata soleggiata su quasi tutti i settori e qualche nube in più su Alto Tavoliere e Monti Dauni. Al pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone più interne del Potentino e Materano, con rischio di brevi rovescio e temporali isolati. Altrove cieli poco nuvolosi. Dalla sera miglioramento ovunque. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie e le massime. Venti dai quadranti settentrionali con riforzi lungo le coste Puglisi e sul Salento. Mari mosso l'Adriatico, poco mosso l'Ionio. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Enio Mascia, che immortala nei pressi di Faeto lo spettacolo della nebbia nella valle tra i monti della Daunia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Mete One e TeleApple, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.